buongiorno ragazzi oggi 5 marzo direzione bivacco campestrino eccolo qui dopo tre mesi riesce lo scoperto pure lui il nostro aperto abbiamo appena lasciato il parcheggio di ospitale di cadore e ciò che entriamo un attimo nel piccolo paesino tra l'altro molto carino si può fare anche il fornimento d'acqua volendo iniziamo al percorso 483 si può leggere in basso continuo quindi il nostro percorso ci lasciamo alle spalle questo bellissimo monte montezita più di 2 mila metri d'altezza veramente uno spettacolo buongiorno 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 Quindi, presumo, si deve andare dietro quegli alberi lì. Praticamente affiancata a Casera Valbona ci sono le indicazioni per il campestrine. Sempre percorso 483, ormai non dovrebbe mancare neanche tantissimo. Questa è la prima volta. Let me tell you something now There's a story to me too Bring on now A feeling in our soul A love for one to hold Let me tell you something now There's a story to me too Let me tell you something now Let's go by the window Let me tell you something now Let's go by the window Cioè guarda come ci stiamo evolvendo La venta, formaggio e soppressa Let me tell you something now Madonna, nesting Cope, I'll tell you Ah, porchettua Cosa facciamo? Ah, saluti Sorry Va bene, si Fate appunti così Grazie. La legna c'è, la studenta c'è, le varie stoviglie, poi noi ci sono degli scaffali, abbiamo i due letti a castello. All'interno dell'armadietto ci sono un sacco di coperte, sopra invece ci sono gli alimenti lasciati dalle altre persone che sono venuti in bivacco. Mentre sopra abbiamo un soppalco. All'interno dell'armadietto. All'interno dell'armadietto. E' un po' che fa? C'è un po' che fa? C'è un po' che fa? You calling me baby You calling me baby